E se esistesse un metodo che ci consenta di ottenere tutto quello che vogliamo? Beh, in verità esiste, ma partiamo con calma, facciamo un po' di ordine. Nel suo libro Il milionario, di Mark Fisher, del quale tra l'altro io ho una copia autografata direttamente dall'autore che risale ben al 2002, un libro che davvero mi ha cambiato la vita, ma in poche parole in questo libro viene raccontata la storia di questo ragazzo che vuole diventare milionario e che quindi va in visita da un milionario proprio per farsi spiegare come si fa a diventare milionari. Il milionario spiega a questo ragazzo che per ottenere tutto quello che si vuole dalla vita è molto semplice perché basta avere un obiettivo molto ben vivido nella propria mente, talmente vivido che siamo in grado di scriverlo proprio su un pezzo di carta e una volta che abbiamo ben preciso nella nostra testa questo obiettivo, ogni notte, prima di andare a dormire, quando siamo già nel letto, dobbiamo ripeterci, ripeterci, ripeterci questo obiettivo prima di dormire appunto. Ma perché questo metodo dovrebbe funzionare? Abbiamo qualche evidenza scientifica? E qui viene il bello perché sì, le abbiamo infatti nel suo libro La Biologia delle Credenze. Bruce Lipton dimostra come l'obiettivo della nostra mente sia proprio quello di trasformare in realtà quelle che sono le nostre credenze. Vediamo di capirci qualcosina in più. Noi abbiamo due menti ben distinte. La mente conscia, che è quella che, tanto per farci capire, è quella che ci permette di parlare con la persona che sta di fianco a noi mentre stiamo guidando. La mente inconscia, la seconda delle nostre due menti, invece è quella mente che ci permette di guidare e arrivare a casa senza che praticamente ci siamo nemmeno accorti di quello che abbiamo fatto. Capita un po' spesso a tutti, no? Soprattutto quando si fa un percorso che conosciamo bene di, puff, essere arrivati a casa senza di fatto essersi nemmeno accorti di quello che è successo. La mente conscia rappresenta solamente il 5% del nostro cervello, tanto che riesce a processare 40.000 impulsi nervosi al secondo. La mente inconscia, invece, rappresenta il 95% del totale e processa ben 40 milioni di impulsi elettrici ogni secondo. Una gran bella differenza, infatti, la mente inconscia è estremamente più potente della mente conscia. C'è una brutta notizia, però. Tutto quello che abbiamo all'interno di questa mente inconscia, che appunto è questa mente superpotente, ci è stato infilato dentro dai nostri 0 ai 6 anni. Età durante la quale il nostro cervello lavora con delle frequenze che sono le stesse che servono per, tanto per capirci, per ipnotizzare le persone. Crescendo, queste frequenze si alzano e a prendere il sopravvento, diciamo così, è la mente conscia. Quindi quella anche più razionale. La mente inconscia, chiaramente, non è che sparisce dal momento in cui cresciamo, ma continua a lavorare in background, un pochettino come fanno le applicazioni del telefonino. E continua ad utilizzare tutta la sua potenza con i famosi 40 milioni di impulsi elettrici elaborati ogni secondo. C'è una bella notizia, però, perché ogni notte, poco prima di addormentarsi, le onde cerebrali del nostro cervello tornano ad avere la stessa frequenza che avevano quando eravamo piccoli. Cosa che ci permette, appunto, di poter inserire, di andare a mettere in questa mente inconscia, nel subconscio, possiamo chiamarlo, delle nuove credenze. Esattamente come è successo dai nostri zero ai sei anni. Non so se capita anche a voi, ma, per esempio, a me, che da piccolino ho frequentato l'oratorio, ancora oggi che ho 40 anni mi tornano in mente le canzoni che ci insegnavano in chiesa. Il motivo per cui ancora me ne ricordo è che sono state inserite nel mio cervello quando ero piccolo. Se ci pensiamo, la bella notizia è che il consiglio del milionario all'interno del libro di Mark Fisher è proprio questo. Se noi prendiamo le volontà della nostra mente conscia, quindi i nostri obiettivi, e ce li ripetiamo e li inseriamo all'interno della mente inconscia, del subconscio, prima di dormire, che è il momento, appunto, in cui possiamo comunicare con questa potente mente, in poche parole stiamo prendendo delle nuove credenze e da far trasformare in programmi alla mente inconscia, che non farà altro che ad un certo punto, quando sono stati installati correttamente, eseguirli. Dobbiamo sempre ricordarci qualche consiglio pratico da mettere in pratica, che il nostro subconscio, questa mente potentissima, è però come se fosse un maggiordomo, quindi è di fatto un mero esecutore dei compiti che gli affidiamo. Questo è il motivo per cui bisogna sempre rivolgersi alla mente inconscia, al tempo presente e sempre in maniera affermativa. Quindi facciamo un esempio pratico, se voglio diventare più fortunato, quello che dovrò ripetermi nella mia testa poco prima di dormire sarà io sono fortunato, al tempo presente e in maniera affermativa. Se al nostro subconscio gli diciamo non voglio essere più sfigato, facciamo un casino, perché il non non lo capisce e praticamente capisce che vogliamo essere sfigati. Quindi sempre affermativi. Giusto per farvi un esempio pratico, tutti quelli che sentite in giro, che continuano a ripetere la frase mai una gioia, ecco, queste persone non fanno nient'altro che instillare nella loro testa il fatto che saranno sempre sfigati, saranno sempre sfortunati e non potrà che essere così. Quindi per favore non dite più mai una gioia, perché è un modo per autosabotarsi incredibile. Lo so che sembra fantascienza, misto, magia, ma ragazzi io vi assicuro che funziona. Io da quando ho letto questo libro, appunto, nel 2002, e due, quindi tantissimi anni fa, ho messo in pratica questa regola perché mi sembrava appunto sensata e per me funziona. Cioè per me ha funzionato, per tutte le cose per cui l'ho utilizzata ha sempre funzionato. Il mio consiglio è di provare, anche con cose semplici, per esempio provate, se non ci credete, per un certo periodo, a ripetervi, io trovo sempre parcheggio o cose di questo tipo, vedrete che piano piano, chiaramente non nell'immediato, perché ci vuole un po' ad inserire un nuovo programma, una nuova credenza nel cervello, ma vedrete che le cose succederanno e inizieranno a succedere in maniera molto magica. Chiaramente in descrizione vi lascio il link sia del milionario, sia del libro di Lipton, Biologia delle Credenze. A me sono due libri che letteralmente mi hanno cambiato la vita, vi consiglio di leggerli, adesso che arriva l'estate è il momento giusto. Se questo argomento vi piace, se volete scrivetemelo nei commenti, possiamo farne uno più pratico, dove per esempio condivido con voi quelle che sono le cose che io mi ripeto oggi, prima di andare a dormire, e che sto ripetendo anche ad Elon, il mio bimbo, invece della classica preghierina a Gesù Bambino, che insomma io preferisco non fare, ma preferisco appunto ripetergli delle cose che secondo me hanno più senso. Se volete facciamo un altro video dove approfondiamo appunto le cose che utilizzo io. Io la chiamo, nel caso delle frasi che ripeto a Elon prima di dormire, la preghiera moderna. Fatemi sapere nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, vi voglio bene. Ah, ovviamente una cosa al volo, è facile sapere quello che è il nostro obiettivo nel momento in cui ce l'abbiamo. Il problema di tante persone è che non sanno esattamente che cosa vogliono. Quindi in descrizione vi lascio anche il video che ho fatto tempo fa dove spiego come capire cosa fare nella vita. Trovate tutto in descrizione.